Buongiorno a tutti, benvenuti alla seconda giornata del nostro convegno dialoghi con Pasolini, dialogos con Pasolini. Oggi ho il grande piacere di presentarvi Miguel Ángel Cuevas di Sevilla, amico da 30 anni, 31, Miguel Ángel Cuevas è poeta, traduttore e professore ordinario di letteratura italiana all'Università di Sevilla, ha insegnato all'Università di Catania ed è stato Visiting Professor nell'Università di Achisgrana. Si occupa prevalentemente di letteratura del XX secolo, ha curato edizioni spagnole di classici novecenteschi italiani, tra cui Pirandello, Tozzi e Consolo, è tradotto in italiano poeti spagnoli contemporanei come Valente e Oteisa, nonché la propria opera poetica. È autore di saggi sui rapporti tra letteratura e arte figurative. Ha collaborato a diverse iniziative espositive di artisti contemporanei in Italia e in Spagna, è un gran studioso di Pasolini a livello nazionale e internazionale, ha scritto sulla saggistica giovanile, sulla narrativa romana, sull'ultimo cinema. Ha tradotto Orgia e Ragazzi di Vita, Ragazzi di Vita, Cico Stella Roio, ricordo, nell'edizione Cattedra, e attualmente lavora la versione castigliana di Una vita violenta e di petrolio. L'ultima novella di Pasolini, assieme a Giuseppe Zigaina, ha curato l'edizione spagnola di Pierpaolo Pasolini, Organizar el Transhumanar. Sono molto molto felice che sei qui e già ti do la parola. Buongiorno a tutti. È un piacere enorme essere qui, ritrovare amici di vecchia data, come Uta, come Hans Felten, e spero farne di nuovi, di nuovi amici tra tutti voi. E' davvero un'occasione, un'occasione molto bella per me. Poi tra l'altro ho conosciuto Albertina, ci siamo incrociati con letture comuni del passato, e questa è una cosa ancora più bella che è successo. Bene, veniamo all'argomento. Molte pagine sono state scritte sulla morte di Pierpaolo Pasolini, sia da un punto di vista estrinseco all'opera, cioè con l'impostazione con cui ci si accosta a un fatto di cronaca, che da una prospettiva intrinseca, cercando nei suoi scritti, fondamentalmente nei saggi, la chiave di un'onnipresente dissidenza, il cui esito, l'assassinio del poeta, sarebbe il frutto di una trama politico-delittiva disposta a farla tacere, questa dissidenza. Da ognuna di queste due letture scaturiscono altrettante figure, ambedue riduttive e semplificatrici. Quella di un uomo, il poeta non conta più, dalla vita torbida e scandalosa, oppure quella di uno scrittore impegnato, coraggioso pur sapendosi potenziale vittima innocente di uno smascherato sistema corrotto. Insisto anche, credo che si tratta di due immagini riduttive e semplificatrici. Si è scritto pure abbondantemente, e non è la stessa cosa, su Pasolini e la morte. Si tratterebbe adesso di interpretarne l'opera, per quel che riguarda uno dei suoi motivi più appariscenti, la tematica mortuaria, richiamandosi ai più svariati topoi decadentisti del funereo. Da quest'ultima posizione si agisce in modo metodologicamente più accorto, ovvero si tiene conto dei limiti tra l'io sperimentale, la voce del testo, e l'io biografico, benché un'estrema difficoltà attende che si accinga ad estrapolare un io univoco, biografico o sperimentale, dagli scritti di un autore, la cui prassi estetica è fondata sull'ambiguità e la contraddittorietà programmatiche. Questo tipo di approccio, prevalente nella critica pasoliniana qualificata, non abbandona tuttavia la possibilità di tracciare un eventuale ponte tra ambe e due le parti, quindi di presentare la totalità autore opere come un unico corpo testuale. Ma un sipario cala su si fatte indagini davanti al momento fisico della morte. È il tempo di tornare ai topoi decadentisti, di serrare le fila attorno al testo scritto o filmato, mai al testo gesto fissuto, che che si sia detto prima sul tutt'uno dell'opera pasoliniana e la sua presenza fisica. Ecco come il richiamarsi all'azione poesia dell'autore, al suo essere corpo del testo e nel testo, per ansia di realtà, finisce col diventare anch'esso un luogo comune. Raccolte le vele, si ritorna alla genericità di una non precisata e né meglio definita confusione tra lo scritto e il vissuto. Non si indaga nell'eventuale sprofondamento del senso che potrebbe scaturire da una considerazione dell'operare artistico come pragma. Si rientra nel cerchio delle vecchie abitudini, ci si chiude cioè nell'involucro delle letture rassicuranti, delle interpretazioni collaudate, conservatrici insomma. Ciò che invece resta indubitabile è che lo scrittore, specie in empirismo eretico, cioè in chiave saggistica, ha riflettuto a proposito del passaggio da uno spazio verbale scritto, oppure iconico filmato, ad uno spazio altro, fisico vissuto. Ha riflettuto sulla sua volontà di saldare nell'esperienza corporea la fessura tra parola immagine e realtà. Ha riflettuto e scritto sulla funzione relogificatrice della morte, sulla morte come operazione direttrice simile al montaggio cinematografico, sull'unico significato possibile della libertà come scelta della propria morte. E sarebbe pure fattibile appellarsi in merito alle numerose testimonianze dei soggetti sperimentali, nella tragedia orgia, nei versi di poesia in forma di rosa, di trasumanare e organizzar della nuova gioventù, nei frammenti della divina mimesis, di petrolio, tra le tante altre. Testimonianze le più svariate che appunto mette a fuoco l'operato ermeneutico di Giuseppe Zigaina, un pittore, quindi uno non addetto ai lavori, sodale di per Paolo Pasolini sin dai tempi del lontano Friuli, contro le cui verifiche, contro le verifiche di Zigaina, uso parole sue, la critica accademica, con poche eccezioni, scaglia i propri interdetti di casta. Invece lo storico dell'arte Giulio Carlo Argan, in un filmato documentario su Giuseppe Zigaina, afferma, se dovessi dire chi ha capito di più Pasolini e maggiormente seguito sulla linea del suo sentimento morale, quest'uomo, questo artista, è Zigaina. Siamo nel 1992 e il pittore Friulano ha già pubblicato le due prime tessere della sua interpretazione ereticale circa l'operato pasoliniano come processo di progettazione e verifica esperienziale di un mito di morte-rinascita. Pasolini e la morte nell'87 e Pasolini tra enigma e profezia nell'89. Zigaina aggiunge Argan come Pasolini e l'artista dei lucidi furori. Fine della citazione. Giordano Bruno, Elio Vittorini, eccetera. A conferma di questa sorta di corrispondenza, benché spesso celata nel profondo, è lo stesso Pierpaolo Pasolini a precisare in un testo del settanta che gli editori dell'opera completa hanno intitolato l'enigma di Zigaina, è lo stesso Pasolini a dire queste parole. Egli, Zigaina, è ontologico per me, come io credo, sono ontologico per lui. Nell'esplorare questa ontologicità, se la si vuol condurre nel rispetto dell'ideoletto semiologico pasoliniano, vanno in partenza, ricordate, delle precisazioni appunto di empirismo eretico, di un saggio nel quale si legge, ma essere è naturale? No, a me non sembra, anzi a me sembra che sia portentoso, misterioso e semmai assolutamente innaturale. Ne ci si può scordare, nel condurre quest'indagine, non si può, non possiamo scordarci della diversa natura di enigma e di mistero, stando all'ammonimento dell'ombra di Sofocle, un personaggio della tragedia a fabulazione. Dice l'ombra di Sofocle, non è un enigma quello che ti viene posto, la ragione serve infatti a risolvere gli enigmi, non è un enigma, è un mistero. Sia le osservazioni del saggio che i versi della tragedia risalgono alla seconda metà degli anni Sessanta, anni in cui l'ormai ventennale sodalizio tra poeta e pittore si andava infittendo di collaborazioni in ambito cinematografico. Pasolini usufruisce della consulenza, del sostegno organizzativo e del lavoro attoriale dell'amico, rispettivamente per Teorema, del 68, per Medea, del 69 e per il Decameron, del 70-71. Prima, dal 47 in poi, Pasolini ha recensito o presentato ben sei mostre di Zigain, due collettive e quattro personali. Ha consegnato dei versi per un catalogo e ha scritto per una delle prime monografie dedicate all'artista, oltre a dedicargli anche lui l'opera, il poemetto Quadri Friulani, del 55, confluito nel 57 nelle Ceneri di Gramsci. Il pittore da parte sua ha illustrato con tredici disegni le poesie friulane della placchette pasoliniana Dov'è la mia patria, del 49, e la copertina del canto popolare, del 54. Certo col senno di poi, l'incontro tra i due nel 46 è stato descritto da Zigaina come, cito, fatale. Non potevo eluderlo, non potevo non capirlo. E si è dato durante trent'anni della sua vita a comprenderlo, in una ricerca, come egli stesso spiega, di tipo euristico, segnata da quel fervore filologico che deriva da una sconvolgente intuizione. Per Zigaina tutto parte dalle verifiche condotte sull'opera figurativa del poeta. Dopo un primo breve intervento nel dicembre 77 sul Pasolini pittore. Dal 78 cura diversi volumi sui disegni dell'amico, corredati da pagine critiche, tra cui i testi di due conferenze tenute nell'84 alla Berkeley University sulla contaminazione totale, come esperiente espressivo pasoliniano, e sulla sacralità della tecnica pittorica pasoliniana. Inizia così l'elaborazione della sua teoria, che dopo i due volumi di Fini Ottanta, a cui ho accennato prima, ha un suo grande approdo nella Trilogia della Morte, questo è il sottotitolo, intitolata Ostia con H, cioè vittima sacrificale, del 95. Anno, il 95, nel quale il pittore friulano pubblica pure il suo primo libro narrativo, verso la laguna. Racconti scabri, privi di nostalgiche malinconie, dal taglio scopertamente autobiografico, dove un io si racconta senza compiacimento, a volte quasi spietatamente, come guardandosi stoppiato attraverso il gelido filtro di un vetro che delimita aguzzamente i contorni di ciò che lascia trasparire, dove spesso il narrato guizza a un qualche crocicchio, in bocca dei vicoli ciechi, ne esce da inusitati trabocchetti. Nè il treno, testo incluso in una raccolta narrativa successiva, in cui a tratti un po' si accentua il registro saggistico, una raccolta intitolata Mio padre l'Ariete, del 2001, il narratore racconta la propria indagine, offrendone un compiuto riassunto. Cito Penso a quel mistero, a quella storia che quando la racconto lascia tutti con gli occhi sbarrati. Rileggo ciò che ho scritto per avere io stesso la conferma che la mia decifrazione, sia fondata soltanto sull'esame dei testi. Quando lo sguardo torna a posarsi sulla pagina dell'autore, rileggo, finché io non sarò morto, nessuno potrà garantire di conoscermi veramente, cioè di poter dare un senso alla mia azione, che dunque in quanto momento linguistico è mal decifrabile. E continua citando ancora, l'uomo si esprime soltanto, soprattutto, non soltanto, soprattutto, con la sua azione. Ma questa azione manca di unità, ossia di senso, finché essa non è compiuta. Finché a futuro, cioè un'incognita, un uomo è inespresso. Dopo questa lunga, virgolettata citazione che fa Sigaina da Empirismo eretico, questi sono testi di Empirismo eretico, continua il narratore. quel finché io non sarò morto, espande dunque il suo senso in una concatenazione logica e simbolica che rifluendo giustifica la violenza del messaggio. Ma in questo caso mi chiedo, si chiede Sigaina, anzi si chiede il narratore di questo racconto, ma in questo caso mi chiedo, quale potrebbe essere lo scritto in cui una così assoluta affermazione, finché io non sarò morto, possa assumere la sua funzione? Uno scritto, ad esempio, che porti questo titolo a compendio, la mia morte come massima espressività. Invece la frase, finché io non sarò morto, eccetera, appare in una lezione in Cina sul cinema, intitolata umoristicamente, osservazioni sul piano sequenza. Apro ancora una parentesi nel racconto, queste sono citazioni del racconto che si avvale di citazioni del saggio di Pasolini. Apro io, in questo caso, una parentesi nel racconto di Sigaina. Lo stesso Pasolini, l'autore di cui si parla in questo racconto, scrive caustico, appunto in quelle osservazioni sul piano sequenza, che sta citando Pasolini, che sta citando Sigaina. Lo stesso Pasolini dice, qui devo dire una cosa, qui devo dire che cosa io penso della morte. e lascio liberi i lettori di chiedersi, scettici, che cosa centri questo col cinema. E basta. Il racconto di Sigaina procede, citando letteralmente, evocando quasi alla lettera o parafrasando, un altro saggio, sempre di empirismo eretico. Il saggio si intitola Il cinema impopolare. Io non mi meraviglio, dice Sigaina, o meglio, ripeto il narratore, io non mi meraviglio di questa apparente incongruità, questa volontà dell'autore di voler trasparire dal discorso in tutta la sua scandalosa novità, da una parte, e dall'altra di volersi invece nascondere dietro sottili di disquisizioni metalinguistiche, accettando la necessità di parlare al mondo ambiguamente e di rischiare di non trovare un solo spettatore che possa ascoltare e capire. Lo spettatore che comprende, che simpatizza, che ama, che si appassiona, parafrasi di osservazione sul piano sequenza, del cinema impopolare, lo spettatore che comprende, che simpatizza, che ama, che si appassiona, reinserendo l'opera dell'autore nel parlabile, facendosene il narratore l'oggettiva. E' per questo che un simile spettatore è scandaloso tanto quanto l'autore. Questa è l'amara conclusione. Insomma, ciò che succede tra autore e spettatore, cioè tra chi inventa e chi, comprendendo per carisma la novità, vi si identifica per raccontarla, è un misterioso rapporto tra singolo e singolo che avviene sotto il segno ambiguo degli istinti e sotto il segno religioso non confessionale della carità, citazione letterale del cinema impopolare. E' forse per questo che essi, l'autore e lo spettatore, suscitano attorno a loro un indefinibile stato di disagio e di panico molto simile all'odio razziale. Anche qua, l'odio razziale sono parole letterali di Pasolini. Qualche anno prima, senza il lievissimo velo di finzionalità del racconto, l'anziano narratore che dice della sosta del suo treno deserto su un binario abbandonato nella bassa friulana, qualche anno prima, lo spettatore, esegeta impegnato tra segni e tracce di sacralità in opere e azioni dell'autore, afferma perentorio. Quello che Pasolini voleva, attraverso il suo laicissimo sacrificio, era di integrare nella cultura, nel valore e dunque nella poesia, nella sua poesia, la fisicità della sua esistenza e l'atto naturale e insieme violentemente scandaloso della sua morte, che operando allo stesso modo in cui il montaggio opera su un film, avrebbe deciso della sua intera vita racconto. Avrebbe insomma provocato quella dilatazione semantica dell'opera che si sarebbe ricomposta secondo un senso non individuabile in precedenza e tale da rendere necessaria l'integrazione dei vari linguaggi usati per esprimersi, quello simbolico, quello filmico e quello dell'azione. Questa è la proposta ermeneutica, questa che ho appena letto, è la proposta ermeneutica alle cui soglie, per rigetto o furore anticonoclastico, per venerando timore oppure per autoimposta e rimozione, se ne arrestano altre, che tuttavia presentano, come si è detto all'inizio, la totalità autore opere come un unico corpus. Ma non solo si arrestano davanti alla proposta, stigmatizzano una lettura che cerca di trascendere l'immanente testuale all'insegna della comprensione di un progetto autoriale inteso come pragma, laddove la prassi artistica, già testo o immagine, integra l'azione. Ora, se sono state avanzate delle analogie tra l'esperienza performativa nell'arte comportamentale e certe procedure pasoliniane alla stregua di un'idea della manipolazione violenta della fisicità come fatto espressivo, se sono state avanzate queste ipotesi, non dovrebbe diventare troppo complessa l'operazione intellettuale che contemplasse l'ipotesi che il proprio corpo massacrato sullo sterrato di ostia potesse costituire appunto un fatto espressivo. Testimonianza presente di un'idea della poesia, dell'arte come azione significante, forse tra enigma e mistero. Invece viene negata a prioristicamente e in modo assoluto tale possibilità. Si fatta preconcettualità risulta inammissibile dal punto di vista epistemologico, tra l'altro perché nella poetica pasoliniana la regressione del segno, verbale o iconico che sia, alla materia forma, funge da punto nodale. E poi quest'ultima sua opera, la propria morte, non sarebbe precisamente il segno materiale e formale del più grande rifiuto, la dissidenza maggiore, quando si presenta una quasi totale identità tra postulati saggistici dove soggetto dell'enunciazione e soggetto dell'enunciato coincidono e voci poetiche, teatrali, narrative, ci si dovrebbe interrogare sulla legittimità dell'anatema tacito esplicito scagliato contro interpretazioni schiettamente e provocatoriamente pasoliniane dell'opera di Pasolini. Sulla ragionevolezza dell'interdetto lasciato contro, scagliato scusate, contro la sconvolgente intuizione di Zigaina su cui si regge il suo percorso esegetico. Un percorso, voglio ripeterlo e sottolinearlo, impegnato nel mostrare il registro funereo, il registro tematico funereo, non come mero emblema decadentistico, ma innanzitutto come segnal, naturalmente ambiguo, di un progetto espressivo fondato sulla sacralità, non solo nominata o presentata, ma incarnata, magari follemente. La morte come costruzione in atto, come azione, testo vissuto, che illumina retrospettivamente i testi scritti o filmati. La morte come esperienza del sacro. Per procedere dentro l'orizzonte ermeneutico in cui si colloca la dedizione pasoliniana di Zigaina e cercare di comprenderne la fondante e sconvolgente intuizione, occorre soffermarsi su quello che lungo gli anni, l'autore Pasolini manifesta sullo spettatore Zigaina, il poeta, cioè sul pittore. In un dibattito storico-artistico nel 65, mettendo le mani avanti, Pasolini recita, è proprio il caso di dire recita, non chiedete a me cosa sto a fare qui, io di critica d'arte veramente ho delle antiche velleità, ma nessuna reale competenza. Si tratta di un caso palese di Cattazio Benevolenze, non solo per l'ulteriore discorrere dell'intervento, ma perché sappiamo dei suoi scritti, degli scritti pasoliniani, su questioni connesse alle arti figurative, particolarmente alla pintura. Una trentina di testi, la maggior parte scritti entro il 56. Del resto, proprio verso metà degli anni 60, l'anno di quel dibattito, 65, proprio verso metà del 65, Pasolini riprende a dipingere l'attività la meno nota della sua operosità, praticamente interrotta tra il 50 e il 65. In un testo del 70, che non è stato incluso nelle opere complete, tra l'altro, un testo che manca nel corpus dell'opera omnia, in un testo del 70 racconta, sbagliandosi alquanto sulle date ed anche esagerando il silenzio pittorico, dice Pasolini, ho ricominciato a dipingere dopo una trentina d'anni. Ho preso un barattolo di colla, ho disegnato e dipinto insieme, rovesciando direttamente il liquido sul foglio. Anche trent'anni fa mi creavo delle difficoltà materiali. Per la maggior parte i disegni di quel periodo li ho fatti col polpastrello sporcato di colore direttamente dal tubetto sul cellofan, oppure disegnavo direttamente col tubetto spremendolo. Quanto ai quadri veri e propri, li dipingevo su tela di sacco, lasciata il più possibile ruvida e piena di buchi, con della collaccia e del gesso passati malamente sopra. Eppure non si può dire che fossi, eventualmente sia, un pittore materico. Mi interessa più la composizione, coi suoi contorni, che la materia. Ma riesco a fare le forme che voglio io, coi contorni che voglio io, solo se la materia è difficile, impossibile e soprattutto se in qualche modo è preziosa. Malgrado la presenza cosmopolita di Longhi, la mia pittura è dialettale, un dialetto come lingua per la poesia. Squisito, misterioso, materiale da tabernacoli. Sento ancora quando dipingo la religione delle cose. Ho bisogno di una materia espressionistica senza possibilità di scelta. E aggiunge in chiusura, come si vede, anche i dilettanti hanno i loro appassionati problemi. Questo dilettante, senza nessuna reale competenza, ha scritto più volte, invece, sin dal 1947 sulla pittura di Zigaina, l'artista che come nessun altro ha sollecitato il suo interesse critico. Ne fa il nome per la prima volta recensendo una collettiva. Solo come la sua testa, titolo di un'opera di Zigaina, solo come la sua testa ci rimane Zigaina. O noi saremo gli ultimi a non appoggiarlo quando sacrifichi, come usa, la pittura all'intelligenza, al gusto e magari alla polemica. Fine della citazione. Il pittore compare così nelle pagine di Pasolini in una dimensione, se non ostica, sì tendente all'isolamento, all'introversione. Necoglie l'occasione, sin dall'inizio lo vedremo, per fare attraverso Zigaina degli autoritratti per interposto pittore. Pasolini sta parlando di sé, in poche parole. sempre nel 47, un mese dopo, a motivo di una mostra alla quale lui stesso, Pasolini, partecipa con degli autoritratti, con due autoritratti, sono tra i quadri più noti di Pasolini, l'uomo dal fior in bocca, ragazza con la sciarpa. Questi due autoritratti erano presenti in questa mostra nella quale partecipava pure Zigaina, prefigurando ben note posizioni della maturità a difesa della inaccettabilità dell'opera artistica, l'opera artistica deve essere inaccettabile, scrive Pasolini su Zigaina, scrive, Zigaina propone, anzi ci oppone, in un clima non di maniera ma di scandalo picassiano, i suoi massicci spettri bizantini. Ma avviciniamoci alla parete e guardiamo come dipinge. La sua materia è pochissimo assorbita dal preparato, è lucida ancora di olio e acqua raggia, giace in un'atmosfera d'aprile de luge, nell'umidità di un mondo appena riemerso dal caos. I segni del pennello restano distinti, con i loro colori senza canto, terre, bitumi, gialli, e si giustappongono in un disordine quasi sgradevole, certo brutale. L'impostazione compositiva tende a una deformazione di tipo abnorme, fuori da ogni dialettica normale. La luce non è che una pennellata, meglio una sporcatura, più chiara sul tessuto tenebroso dell'ombra. Sembra star descrivendo i propri quadri. A gennaio del 48 risale la prima recensione dedicata ad una personale di Zigaina. Una architettata ed esplicita presa di posizione a favore della materia troppo cruda, oleosa, mossa, parole letterali, di una pittura come La Grande Crocifissione, di Zigaina, che non ha, cito, nulla di tutto ciò che si chiama perfezione, tranquillità, distacco. La prima impressione è anzi di movimento e di squilibrio. I violenti contorni neri, quest'inferriata palpitante, trascinano gli asciutti dati anatomici e gli asciutti drappeggi in un gorgo infrenabile. Qualche anno dopo, nel 65, una semplice allusione incidentale a Zigaina diventa una trasparente occasione di autoriferimento. Sia nel pittore che in altri giovani scrittori e poeti coesistono due atteggiamenti opposti. Uno, cito, per lo più inconscio di conformismo alla recente tradizione decadentistica e squisita, e uno intenzionale di ricerca o, nella fattispecie, di impegno, il che significa che l'ineffabile fantasma interiore assume le forme di un fenomeno storico, reale o sociale. L'accenno di questo, fine della citazione, l'accenno di questo obliquo schizzo d'autoritratto, per interposto autore, era già apparso in un altro scritto del 48. Recensendo ancora una personale dell'Amico, a proposito della reiterazione dei soggetti, parla Pasolini di, cito, un temperamento che si presta facilmente a cedere all'ossessione, a quelle leggere sindromi che di patologico non hanno che le piaghe cicatrizzate e che rivelano un'introversione come modo costante di vita. È in questo ritornare di un motivo ossessivo che si legge la storia privata di Zigaina, la sua inoggettività, con altro termine, la sua squisitezza, ed egli se ne tormenta, vorrebbe liberarsene, andare verso la realtà, il mondo, estrovertirsi. Ecco, insomma, due autorritratti in maschera, in controcanto, anzi in controcampo, nell'apparente scontro fra oggettività e inoggettività nella pasoliniana altalena della contraddizione. In un testo inedito fino al 99 sulla stagione friulana della mostra del 55, sulla stagione dei quadri friulani nella mostra del 55, il poeta sottolinea ancora la sfarzosa potente contaminazio di un eccezionale manierista novecentesco e propone quella che si direbbe una quasi endia di tanto somiglianti ai propri contemporanei itenerari intercalati tra passione e ideologia. Dice, la lingua di Zigaina è intermedia tra la pressione della corrente decadente espressionista e la pressione della corrente progressivo realista. Tutta la sua pittura vive sotto il segno della contaminazione, in un pasticcio non ironico, ma anzi tremendamente serio. In nessuna pittura come nella sua sono analizzabili degli elementi così diversi e contrari, delle suggestioni così scoperte, dei fini così belleitari. Togliamo pittura, mettiamo poesie, togliamo Zigaina, mettiamo Pasolini e siamo davanti all'ennesimo autoritratto per interposto autore. La differenza e insieme identità dei risultati lungo il percorso dell'arte ziganiana richiede, parole di Pasolini, per essere capita una riserva di ineffabilità e un conseguente atto irrazionale di simpatia. Non è solo l'ennesimo autoritratto mediato, si tratta di un testo capitale, questo sul quale mi sto soffermando, di un testo capitale per quanto riguarda il gioco delle parti tra autore e spettatore, per i segnali, per le tracce che lascia agli interpreti a venire della memoria di ambedue e delle rispettive operazioni espressive di ogni sorta. Mettiamo in sequenza gli enunciati appena letti, l'opera di Zigaina richiede per essere capita una riserva di ineffabilità e un conseguente atto irrazionale di simpatia, con alcuni che abbiamo sentiti prima nel racconto ziganiano Il treno, un atto irrazionale di simpatia di che comprende per carisma la novità e vi si identifica. Per una quindicina d'anni Pasolini non si occupa più della pittura dell'amico, invece da metà dei sessanta riprende egli stesso Pasolini a disegnare, a cominciare dalla magnifica serie dei pastelli su carta degli autorritratti del 65 e tra il 69 e il 70 durante e dopo le riprese di Medea raggiunge forse il momento più alto della sua pittura, con i profili del viso di Maria Callas, tecniche miste su carta nelle indicazioni di comodo sulle didascalie. Ma appunto la tecnica di esecuzione di questi dipinti, nella fattispecie della seconda serie del 70, che consiste nell'uso come coloranti di materiali che reagiscono tra di loro chimicamente e trascolorano, si rifiutano tra di sé, è stata questa tecnica precisamente descritta da Zigan. Come dipingeva Pasolini, potremmo intitolare questo frammento che sto per leggervi, evocando il famoso titolo di Contini, come lavorava Lariosto. Dapprima traccia il profilo con una matita grassa, ed è una annotazione scarna e rapida, quindi prende dal tavolo su cui lavora una rosa e ne schiaccia i petali sulla tempia, poi impallidisce le guance con degli acini di uva bianca spremuta, sui capelli versa ancora del vino rosso e qualche volta da una candela accesa fa gocciolare sull'immagine, si badi bene su tutti questi succhi solubili in acqua, delle perle di cera. A lavoro ultimato, Pasolini piega il grande foglio dall'alto al basso due volte e poi per creare la delimitazione a scomparti, da destra a sinistra, così che le immagini e i profili della callas restano per qualche momento immersi in una mistura di umori. Riaprendo il foglio, i petali, l'umore dell'uva, la trasparenza del vino, sembrano dar vita con i loro colori inusitati alla fissità del profilo, ma solo per pochi momenti, perché l'ossidazione dei materiali distrugge in poco tempo ogni splendore e non resta quindi che il sudario, la marcescenza, l'immobilità della morte. Per colui che ha frequentato gli scritti pasoliniani, qua c'è un eco più che evidente della descrizione del rosso del pontormo nella sceneggiatura della ricotta. Con la minuziosità di un intimo conoscitore, svela a Zigaina le risorse e le procedure della contaminazione di elementi eterocliti e materie contrastanti nei dipinti di Pasolini, che a sua volta, trent'anni prima, aveva messo in rilievo una simile compresenza e interazione di discorsi diversi e contrari nella presentazione delle opere dell'amico nella mostra romana del 55. Mi avvio verso la fine. L'ultima volta in cui Pasolini si occupa del pittore Zigaina, nel 70, scrive, c'è stata in Zigaina per anni una accanita difesa schizzoide, consistente nel ritirarsi e nel ridursi. Come succede con gli amici di giovinezza, non ho mai troppo indagato sulla psiche di Zigaina. Faccio una parentesi. In quest'occasione, proprio in questo momento, come un aforisma, formula, egli è ontologico per me, come io credo sono ontologico per lui, frase dalla quale siamo partiti. Ma adesso lo vede, cito ancora, per la prima volta deontologizzabile. Mi accontento di questo e non approfondisco, sigilla, e però invece indaga nell'io sdoppiato dell'uomo e dell'artista, cito, così simile a quello dello schizzoide. E dice, nessuno conosce lo stato vero dell'io interiore, con i suoi odi e il suo senso di morte, oppure con le sue folli soddisfazioni, sotto la messa in scena del falso io. Zigaina, mentre passa in friuli una vita quasi idillica e quasi edonistica, eccolo che dipinge tutto l'orrore di Re di Puglia con una sontuosità cromatica che non cancella la disperazione quasi psicotica. Non c'è coerenza tra la sua vita e la sua pittura. Fine della citazione. Tra lo sdoppiamento e la schizzoidea, in questa specie di gioco di specchi dove ogni minima mossa conta, non va dimenticato che certo io, Pasoliniano, nel primo poema zoppicante di Transumanare Organizzare, Patmos, del dicembre del 69, cioè contemporaneo in senso stretto del testo che abbiamo appena letto, certo io, Pasoliniano, si era dichiarato letterato schizzoide, in una citazione tra l'altro appena velata della fucina di Vulcano di Velázquez. Della perlustrazione del poeta nello sdoppiamento dell'amico, sotto le mentite spoglie di uno scienziato, si avvertono degli ecchi evidenti esibiti in un altro dei racconti di mio padre Lariete intitolato La realtà, dal quale cito, ed è la penultima citazione. Non sono mai riuscito a scoprire le ragioni della mia lontana e razionale decisione, quella di restare qui. Forse il mio io interiore lo sa e si difende tacendo, a me non resta che prendere atto del sintomo nevrotico, quello di non lasciare sulle pareti della mia casa una sola traccia del mio lavoro, il che potrebbe essere un altro aspetto di quella accanita difesa schizzoide che mi induce a segregare i miei fantasmi nello studio e chiuderne la porta a due mandate. Fine della citazione. A casa di Giuseppe Sigaina c'era solo un dipinto appeso ai muri. Questo unico dipinto che si poteva vedere a casa del pittore, su una delle pareti raffigura una landa desolata, un casolare sperduto e tre tronchi nudi, monchi. Si intitola Paesaggio ed è un piccolo olio su iuta firmato e datato PPP, non c'è bisogno che traduciamo PPP, vero? PPP 1943. L'unico dipinto che c'era a casa di Sigaina. Lo sguardo appuntito come lago all'estremo dal bulino da incisore, Giuseppe Sigaina si sarà insistentemente chiesto davanti a questo quadro che l'amico gli aveva regalato nel dicembre 58 il giorno dei funerali del padre, del padre Carlo Alberto, del padre di Pasolini. Proprio quel giorno glielo regalò. Sigaina si sarà insistentemente chiesto come posso eluderlo, non capirlo. E nello studio reclusorio si dà a scarnificare la lastra con lago, a sprofondare nell'immagine, a sprofondare nel paesaggio come anatomia. Cito e chiudo. Si inizia sempre così. La lastra è una superficie buia e sotto la mano che su di essa si posa è fredda. C'è distacco e diffidenza. Quando lago incomincia a scalfirla il gesto è insicuro, timido e dissacrante insieme, ma un segno ne vuole un altro a sostegno e si procede cautamente. Lo strato bituminoso sollevato dal lago si raggruma sugli orli e appare un riflesso, il segno luminoso di un'acqua. Poi, lentamente, lo zinco acquista un tepore. La sua temperatura e quella della mano si integrano, si livellano e il metallo perde la sua consistenza e lievita. Diventa cielo notturno, terra, laguna o lavagna della memoria. E l'occhio che segue il movimento della mano diventa la punta lucente di un bisturi. Sì, l'occhio è lì, all'estremità della lancetta. Qualcosa di simile deve succedere a un lettore appassionato che affronti un racconto dal senso sospeso, stratificato, progettato nel tempo quasi fosse un ordigno, per disinnescarlo nel modo dovuto e farlo esplodere, che è lo stesso, questi deve intuire la strategia dell'autore o il suo modello di descrizione. Insomma, deve presupporne il progetto e mistero. È una citazione di Petrolio. E questo significherebbe penetrare nel sistema difensivo dell'autore. Infatti le due operazioni, quella di chi incide una lastra e quella del lettore illuminato che legge un racconto, sono analoge. Gli strumenti di indagno, il bisturi e l'occhio, proprio quello che è all'estremità della lancetta, sono simili e intercambiabili. Grazie. 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 Grazie a tutti per questa conferenza molto stimolante. Grazie a tutti. Mi sembrava molto interessante come Cigaina descrive il retratto che Pasolini fa di Maria Callas e se ho capito bene Pasolini ha dipinto questo retratto con vino e uva. Penso che qui anche vediamo questo desiderio di nuovo di sacralizzazione del retratto e anche quello riferimento alla passione cristologica e anche al bacco. Si potrebbe dire che trasforma di un certo modo Maria Callas anche in una piossa dell'estasi. Fa tutto un processo di sacralizzazione. Sì sì, proprio così. È una serie pittorica, ci sono due serie di ritratti sulla Callas, in tutto saranno almeno, non li ho contati, però almeno una dozzina di opere dedicate al profilo della Callas. Sono due le serie, una prima serie del 69, una seconda serie eseguita nel 70 all'isola di Scorpio, dove Pasolini viene invitato dalla Callas e si porta in etto, in maniera che Maria Callas capisca definitivamente qual era la natura dell'uomo del quale si era innamorata. E lì, a Scorpios, disegna più volte il profilo della Callas in questa maniera che descrive Giuseppe Zygaina. Ci sono delle testimonianze fotografiche. Ci sono delle testimonianze fotografiche in cui si vede Pasolini prendendo da un tavolo i petali dei fiori, gli acini di uva, il vino, la cera e buttandoli sopra il profilo tacciato velocemente con una matita grassa su una carta poco assorbente. poco assorbente. E quindi una volta che ha, diciamo, tracciato il profilo e quasi scagliato contro questa superficie gli elementi che poi andranno a urtare tra di loro, perché sono elementi che non si integrano, capito? Dopodiché piega il foglio di volte, lo spiega e gli elementi hanno fatto già il proprio lavoro e non tocca più. Quello è il risultato. Io ti sto descrivendo la tecnica. Questa tecnica che tu hai benissimo interpretato in chiave sacrale, di deificazione, eccetera, è quella che Giuseppe Zygaina chiama sacrale. Proprio lui la chiama sacrale e parla della contaminazione espressiva alla ricerca della sacralità. Questa è la prima cosa che Zygaina avverte nell'opera del suo amico e lo avverte quando cura, Giuseppe Zygaina cura la prima mostra che si fa a Roma nel 77 dei disegni di Pasolini. La prima in assoluto. Ne cura il catalogo. Ha scritto nel 76 un brevissimo testo intitolato Pasolini pittore. Nel 77 cura questa mostra e nell'82 viene invitato, nell'84 viene invitato alla Berkeley University e fa queste due conferenze. Tutta la sua teoria parte dalla descrizione di quel modo di eseguire i ritratti. Quindi l'acuta percezione della volontà di sacralizzazione dell'oggetto, dell'oggetto tematico, porta a Tygaina a tutta la costruzione della sua teoria. Quindi è assolutamente centrale quella costruzione tecnica della sacralità, in questo caso nell'opera pittorica, che sicuramente mi pare che sia assieme agli scritti sull'arte. La sua opera pittorica e i suoi scritti sull'arte sono la parte meno conosciuta di Pasolini, dell'opera pasoliniana. E vanno studiati. Cioè, ripeto, non c'è nemmeno un'edizione affidabile di tutti i testi sull'arte di Pasolini. Nel volume curato da Walter City mancano più di un testo. Manca più di un testo di Pasolini sul mondo artistico, su pittori, che non è stato... Cioè, voglio dire, gli editori non hanno fatto bene il proprio lavoro, in poche parole. Tra l'altro, si sa dell'esistenza di una tesi di dottorato. Pasolini, la sua prima tesi dottorale, diretta da Longhi, da Roberto Longhi, nel 1942, era su Cimabue. E questa tesi andò persa. L'ha perse su un treno che lo portava da Bologna a Casarsa. A tesi compiuta. Allora non c'erano né fotocopie, né pendrive, né cose del genere. Quindi questa tesi si perde. Si perde. E ne fa un'altra tesi su Giovanni Pascoli. Quindi cambia completamente argomento, cambia direttore, passa da Longhi a Calcaterra e fa una bellissima tesi su Giovanni Pascoli. Ma questa tesi su Cimabue si perde. Recentemente, due anni fa, sono stati ritrovati degli stralcioni di questa tesi e sono stati pubblicati. Neanche questi fanno parte dell'opera completa. C'è tutto un lavoro, sia filologico, da individuazione dei testi originali, che ermeneutico, da fare sugli scritti in materia di critica artistica e sull'opera pittorica dei Pasolini, che è eccezionale, secondo me. Per uno che non è pittore di mestiere, voglio dire. Non sono gli intrattenimenti della domenica, sono più di 300 le opere pittoriche catalogate di Pasolini. E sono lì, in attesa di qualche studioso. Mi sembra che è un campo di ricerca molto, molto interessante, soprattutto perché ci dà anche una nuova chiave per leggere il suo cinema. Certo. Perché utilizza la stessa tecnica di sacralizzazione del ritratto. E anche per leggere la sua opera letteraria, narrativa, soprattutto la narrativa, soprattutto, cioè ragazzi di vita no, ragazzi di vita è un ordigno particolarmente ben costruito. Però già una vita violenta, scritta sotto a cattone praticamente, cioè una vita violenta, è stata scritta nel due, tre ultimi anni della decada dei 50, quando Pasolini era già un assiduo collaboratore come sceneggiatore con Bassani, con altri sceneggiatori, avevano già fatto dei lavori per Bellocchio, mi pare, che avevano già lavorato per altri registi. Quindi diciamo che il suo linguaggio si sta trasferendo verso la cinematografia. Quindi il narratore verbale Pasolini, quel narratore di una vita violenta, è più cineasta che scrittore. Le sue immagini verbali sono dei fotogrammi, proprio sono dei fotogrammi. Dico, ragazzi di vita credo di no, in una vita violenta senz'altro. E la cosa curiosa sarebbe studiare, non solo come la prosa descrittiva di Pasolini negli anni attorno al 60, negli anni precedenti il 60, diventano spie, queste descrizioni, spie di un immaginario che non è più verbale ma cinematografico, da una parte, e d'altra parte percepire come questo immaginario cinematografico è configurato su un immaginario pittorico. Cioè un intreccio straordinario della parola, l'immagine ferma e l'immagine in movimento. Ci sono altre domande? Sì, Uta, posso intervenire? Avevo chiesto... Ciao Anita, ascoltiamo la domanda. Grazie, allora innanzitutto grazie al collega, io vedo scritto Benjamin Henkel ma non è, quindi è un altro nome e dunque perlomeno nel... Scusa un attimo Anita, non ti ascoltiamo ancora, abbiamo ancora un piccolo problema tecnico. Mi sentite? Se no, forse anche potrebbe forse scrivere la domanda e no? Potreste forse leggere la domanda, no? Non mi sentite? Non riuscite a sentirmi? Sentiamo, mi dissiaccio. Non sentite? Allora scrivo, scrivo. Mi sentite adesso? Uta, mi sentite? Sì, sì, sì. Benissimo. Allora, grazie molte anche della possibilità che mi è stata offerta di poter parlare appunto da remoto. Innanzitutto volevo ringraziare il collega per il suo bellissimo intervento che sicuramente stimola, diciamo, ricerche ulteriori e approcci, diciamo, più specifici sulla materia, sulle materie che lui ha convocato. Quindi lo ringrazio molto di questa bellissima apertura e io volevo fare un paio di domande al collega. Allora, pensando proprio a questo lavoro su Callas e sul metodo e al metodo operativo, creativo di Pasolini, anche con riferimento alla sacralità, non so, mi è venuto in mente che fosse quasi un gesto, diciamo, da sindone, da sacra sindone. Quindi questa è la prima domanda che espongo. E la seconda fa riferimento all'eventuale rapporto, diciamo, di, in qualche modo, di relazione tra l'arte di Pasolini, soprattutto, mi sembra di capire, negli anni Sessanta, e l'arte statunitense, penso per esempio a Rauschenberg, penso a quella stagione che nei primissimi anni Sessanta vedeva proprio lo sbarco in Italia, a Venezia, di questa arte, appunto, materica, no? Appunto, action, no? Attiva, no? Azionista, potremmo quasi dire, proveniente da oltreoceano. E faccio questa domanda anche perché so che Pasolini era stato fortemente, come dire, attirato dalla poesia, quantomeno dalla poesia, non so, di Ginsberg, Corso, insomma, dai poeti della Big Generation, tant'è che pensava anche ad un loro coinvolgimento per il Vangelo, ecco, secondo Matteo, cosa che poi non, diciamo, non attuò. Quindi queste sono le due domande che ha sollecitato il collega. Mi senti? Sì, sì, sento. Ecco, non sono domande, sono osservazioni che condivido, diciamo, sono interpretazioni che arricchiscono anche la mia, quindi non ho da dire né sì né no, ho da condividere le osservazioni e fare magari qualche appunto in merito, no? E in effetti Pasolini pensa ai poeti americani della Big Generation nel suo primo viaggio a New York, poi nel secondo se ne delude completamente, nel primo viaggio a New York resta innamorato della città e fa proprio un moto della lotta dei negri nordamericani, fa proprio il moto della lotta dei negri nordamericani e lo inserisce all'interno della propria opera ed è molto significativo nella chiave che io ho voluto proporre. Bisogna gettare il proprio corpo nella lotta. Nella mischia. D'altra parte, pensa a Inzmana, pensa pure a Zbucenko per la figura del Cristo, pensa pure al poeta spagnolo José Agustín Goitizolo, cioè pensa alla figura di un poeta che agisca e che agisca in chiave sacrificale e che agisca in chiave cristologica. Secondo me ci sono due racconti mitici fondazionali in tutta l'opera pasoliniana, che sono il racconto di Narciso e il racconto del Cristo. Credo che ogni interpretazione dell'operato pasoliniano vada fatta senza perdere di vista né il racconto di Narciso, anzi i racconti di Narciso, cioè tutto ciò che costruisce in tutte le sue varianti il racconto mitico di Cristo. Pasolini è tra i primi in effetti che si occupa in Italia, appunto in veste di critico d'arte, concretamente non di Rauschenberg, si occupa del pop di Andy Warhol. è uno tra i primi recensori della mostra fatta, credo, se non erro, in questo momento a Venezia da Warhol. Però c'è un altro fatto, questo rapporto con l'azionismo mi sembra interessantissimo, proprio interessantissimo. non si possono, almeno io non ho potuto constatare, dei rapporti diretti tra gli azionisti viennesi e Pasolini, non li ho potuto constatare, ma sta di fatto che una delle prime messe in scena di Orgia, dopo la prima torinese del 68 allestita dallo stesso Pasolini, morto Pasolini, dove per la prima volta si mette in scena a Orgia e a Graz sotto la regia di un artista azionista, il cui nome non mi sto ricordando. Quindi non mi ricordo, non so dire esattamente di chi, chi fece quell'allestimento. Quindi sì, è molto, credo, chiaro il legame, anche se non, almeno io, non ho potuto individuare un rapporto documentabile. Però fatto sta che ci sono degli elementi di condivisione profonda nell'estetica degli azionisti e nell'estetica, e dico nell'estetica dell'ultimo Pasolini, c'è un fatto molto significativo che è una performance che dirige, realizza alla Galleria Civica di Bologna Fabio Mauri. Fabio Mauri era il fratello di Silvana Mauri, nipoti di Bompiani, tutte e due. Silvana Mauri, diciamo, usando la parola di comodo, si innamora di Pierpaolo Pasolini, c'è una fitta corrispondenza tra loro due, e poi c'è anche un resoconto di questa mancata storia d'amore, non tanto adolescenziali, erano tutti e due, avevano tutti e due 26-27 anni, un resoconto di questa mancata storia d'amore nelle lettere di Silvana Mauri a la madre, non nelle lettere di Silvana Mauri a Pasolini, che non sono state mai pubblicate, sì nelle lettere di Silvana Mauri a la madre, che sono state pubblicate nel 2006 in un libro intitolato Storia di una scrittrice involontaria, opera di Silvana Mauri. Silvana Mauri è un personaggio molto importante nella costruzione di un io in Pasolini, che in questo tra l'altro è pirandelliano, anche se a lui pirandello non piaceva, però è totalmente pirandelliano, cioè la costruzione di un io che non si identifica mai con se stesso, un io che mentre agisce si vede agire, mentre beve si vede bere, e via dicendo, la corrispondenza di Pasolini che è una miniera straordinaria di informazioni per cogliere la portata della sua opera, ne testimonianza. Dicevo, Fabio Mauri, fratello di Silvana, quindi personaggio legato alla memoria, alla più intima memoria umana, sentimentale, politica anche di Pasolini, perché siamo negli anni in cui viene espulso dal Partito Comunista per omosessualità e via dicendo. Non è un caso, quindi, che sia proprio con Fabio Mauri, col quale nel 75, nel maggio del 75, quindi pochi mesi prima dell'ultima performance, se vogliamo almeno considerare la possibilità di ritenere la morte come un'opera, e con solo un'altra performance di mezzo, alla quale magari farò riferimento più tardi, quindi questa terz'ultima performance di Pasolini è all'interno di una performance di Fabio Mauri intitolata Intellettuale, eseguita nel maggio del 75 alla Galleria Civica d'Arte di Bologna e la performance consiste nella proiezione del Vangelo secondo Matteo, ma lo schermo non è uno schermo, lo schermo è un corpo seduto su una sedia messa davanti a... non mi sto ricordando adesso del termine italiano, il cavalletto da pittore, davanti a un cavalletto da pittore. C'è una sedia messa davanti a un cavalletto da pittore e su questa sedia c'è un corpo sul quale viene proiettato l'intero film e il corpo di Pierpaolo Pasolini. Questa fu la performance, la proiezione del Vangelo secondo Matteo sul corpo di Pierpaolo Pasolini, seduto su una sedia messa davanti a un cavalletto, l'immagine, ci sono delle testimonianze fotografiche solo, le performance solitamente allora almeno quello che resta sono immagini fotografiche, neanche un filmato. L'immagine richiama potentemente certa immagine del pop americano di rappresentazioni della sedia elettrica. Questa sarebbe la terz'ultima. La penultima è quella che tiene luogo alla Torre di Chia, alla Torre di Chia nel ottobre, se non erro, nell'ottobre del 75. Torre di Chia è una torre medievale che Pasolini compra in provincia di Viterbo. Nel restaura la parte inferiore, si fa costruire dentro un appartamento e allora si ritira a Chia, si dà accanitamente a disegnare a pennello il profilo, sempre il profilo, come con la Gallas, il profilo di ahimè Roberto Longhi. Ci sono una trentina, una quarantina di fogli bianchi con il profilo di Roberto Longhi disegnato in fretta e furia da Pasolini nudo nella sua casa di Chia e si fa riprendere fotograficamente da, non mi ricordo il nome del fotografo, mi scusate la la cattiva memoria, si fa riprendere fotograficamente dall'esterno attraverso il vetro mentre disegna e quindi nelle immagini che ne restano testimonianza della performance si vede anche la macchina fotografica riflessa sul vetro e si vede il fotografo riflesso sul vetro e dietro il vetro un corpo nudo che disegna o che legge. Questa sarebbe la penultima performance. Quindi sono d'accordissimo con la collega nel collegamento tra Pasolini e l'azionismo. Grazie grazie molte Tantissime grazie Anita per questa domanda ci sono ci sono altre domande non vedo altre domande tantissime grazie per questa relazione molto molto stimolante che anche ci ha dato nuove chiave di lettura dell'opera di Pasolini Grazie a voi grazie grazie grazie